Ah, ok. Ora un momento presentato, check. Napoli a Bologna e la Champions c'è. Yes, un attimo che adesso bevo... C'è Parvachievo. Tieni il caso ma riesca a dirtelo non sono il solo. Attenzione al match, Torino Sassuolo. Si riprende Giuseppe Roscio dopo un fortunio. Fiorentina, Atalanta, per me segno 1. Yes.